da cinque anni e signori scusi per far due cazzo di foto poi sono sempre le foto le stesse foto che mi fai da dieci anni aspetti che faccia così cos'è il canale 5 cazzo 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 culo 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 rete 4 dov'è? figa fichetta 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 no no un po' per far divertire il pubblico loro allora eccetera sicilia mingga 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 allora signori signori